Cosa vuoi che lo faccia buttare fuori dagli Stati Uniti solo perché Megan si è preso una cotta per lui? Non è solo una cotta, Carlo, si è innamorata di lui, è possibile che tu non lo capisca? Megan lo inseguirà dappertutto finché lui rimarrà qui. Basterebbe dirle la verità. Quale verità? Che cos'è che dovrei sapere? Che verità? Tommaso, siediti. Siediti, devo parlare. Vedi, io non ero amico di tuo padre, però conoscevo molto bene tua madre. L'avevo incontrata durante uno dei miei viaggi in Italia e avevo perso la testa per lei. Poi veni a sapere che tua madre stava con un altro uomo. Io mi arrabbia molto con lei perché non me l'aveva detto subito. Mi disse che avrebbe voluto ricominciare tutto con me da qualche altra parte, ma si era resa conto che non era possibile. Anch'io sapevo che non era possibile. Tornai qui, incontrai Claire. Ci siamo sposati. Poi nacque Megan. E poi? Qualche anno fa io ero a Roma quando tuo padre fu ucciso dalla polizia per quella rapina. cercai Maddalena e volevo aiutarla in qualche modo. E' stata quella la prima volta che ti ho visto. Avevi quattro anni. E appena ti ho visto ho capito che... Maddalena non lo ha mai... Non l'ha mai ammesso. E io andai allora da Don Sergio e lui mi ha confermato tutto. Che cosa ti ha confermato? Maddalena non vuole vedermi. Le ho scritto ma non mi ha mai risposto. Che cosa ti ha confermato?